Noi sono mesi che chiediamo un intervento soprattutto sul comparto dell'agricoltura e in particolare non soltanto dell'apicoltura, due comparti che sono stati messi a durissima prova in questi mesi, soprattutto a causa dei fenomeni dovuti al cambiamento climatico che continuiamo a vivere. Sono mesi che chiediamo un impegno serio e concreto da parte di questa maggioranza, da parte del Presidente Marsilio e da parte di tutto il centrodestra. Oggi a valle di questo Consiglio siamo riusciti ad ottenere un primo passo, possiamo dire bene ma non benissimo l'intervento di questa maggioranza che comunque ci portiamo a casa dopo mesi di battaglie e dopo mesi, anni troppi di disattenzione da parte di questo centrodestra ad un comparto che invece è fondamentale per la nostra economia, per l'economia abruzzese, quello agricolo ed agroalimentare, all'interno del quale ricomprendiamo a pieno diritto le eccellenze di agricoltura che noi abbiamo. Bisognava fare di più, noi chiediamo che questa maggioranza faccia di più soprattutto in un contesto di urgenza e di emergenza come quello che i nostri agricoltori, i nostri imprenditori hanno vissuto e stanno vivendo.